Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione e l'apertura del notiziario. Oggi è dedicata alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto tra gli altri Crocetta e l'ex governatore della Sicilia Raffaele Lombardo. Fare accesi sul castello Svevo di Augusta, sequestrato dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Siracusa. Su disposizione del GIP, Michele Consiglio. Vediamo. Il presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, ed i dirigenti regionali Gaetano Pennino, Rino Giola, Sergio Gelardi e Gesualdo Campo sono indagati per omissione di atti d'ufficio, danneggiamento del patrimonio archeologico, storico ed artistico ed omissione di lavori in edifici che minacciano rovina. L'inchiesta riguarda il castello Svevo di Augusta, sequestrato dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Siracusa su disposizione del GIP, Michele Consiglio. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Francesco Paolo Giordano e dal sostituto Marco Di Mauro. Indagato anche l'ex presidente della regione, Raffaele Lombardo. Secondo la procura di Siracusa, l'inerzia è durata nel tempo e per questo è indagato anche il precedente presidente della regione siciliana. L'indagine è scaturita da una denuncia dell'Associazione Italia Nostra che aveva segnalato gravi danneggiamenti strutturali del castello che, secondo la tesi dell'accusa, sarebbero dovuti esclusivamente alla mancata manutenzione e all'abbandono del monumento da parte della regione siciliana. Gli specialisti della sovrintendenza avrebbero più volte evidenziato, in maniera qualificata, che le lesioni esterne dell'immobile sono dovute all'omissione dei lavori necessari che costituiscono la causa del deterioramento. La denuncia, rileva la procura di Siracusa, è stata riscontrata dagli accertamenti dei carabinieri delegati alle indagini. La procura di Siracusa sottolinea inoltre come i mancati interventi relativi al pericolo di crollo della struttura hanno creato un grave rischio per l'incolumità pubblica. Per questo, spiega il procuratore Francesco Polo Giordano, si è reso necessario il provvedimento di sequestro anche per la sicurezza personale dei turisti, visto che potrebbe crollare da un momento all'altro. Il castello Svevo di Augusta è stato affidato dal GIP alla custodia giudiziaria del sovrintendente beni culturali di Siracusa, Rosalba Panvini. Vertenza, Gela, sviluppo e occupazione se ne parlerà domani alle 10.30 all'Hotel Sileno nell'ambito di un incontro promosso dall'UGL. Relazionerà Franco Tilaro, responsabile UGL, Gela. Parteciperanno Giuseppe Messina, segretario regionale UGL Sicilia, Antonio Spera, segretario generale nazionale UGL Metalmeccanici, Luigi Ulgiati, segretario generale nazionale UGL Chivici e Giovanni Condorelli, segretario confederale nazionale politiche del Mezzogiorno. Concluderà i lavori, Paolo Capone, segretario generale nazionale UGL. Donazione di libri e materiale di cancelleria a cura del Lions Club del Golfo di Gela a favore dei detenuti della casa circondariale di Contrada Balate. Si è svolta questa mattina anche grazie alla preziosa collaborazione della libreria Mondadori di Ilina Orlando che ha messo a disposizione del Club Service libri a fronte di una spesa minima da parte dello stesso Lions. Vediamo. Evento ormai istituzionalizzato alla casa circondariale con la donazione di libri e materiale didattico per chi vive qui. Sì, libri, materiale didattico, impegno, questo è un appuntamento che sarà a Foriero, ci auguriamo anche di altre cose. L'importante è non isolarsi, l'importante è essere accolti, accogliere, essere accolti e non isolarsi, questo, ecco, partecipare. Come vengono valutate le letture da somministrare ai soggetti che vivono questa restrizione della libertà? Letture che devono incentivare a quello che è l'aspetto culturale, che noi riteniamo che la cultura sia veramente la cosa più importante ai fini della repressione dei fenomeni di devianza. Questo rapporto con il Lions ed altre associazioni ci consentono di aumentare la percezione di sicurezza e quindi ci aiutano nel nostro lavoro. Come vivono i detenuti l'esperienza di un contatto con il libro che certamente o forse probabilmente nella vita non hanno mai vissuto frequentemente come esperienza? Il libro intanto è un modo bellissimo per coltivare la fantasia e quindi consentire loro di avere questo contatto anche con l'esterno e con le storie che possono comunque incentivare anche la loro storia a modificarsi in base ai protagonisti dei libri. E poi è quello strumento bellissimo che loro veramente imparano a utilizzare che gli consente di non oziare dentro le celle, di utilizzare quel tempo della pena veramente al loro uso per progredire, per migliorarsi. Sono tutti strumenti che in qualche modo aiutano i detenuti a guardare oltre, a poter con la propria mente guardando oltre le mura consentire di poter poi concretizzare propri sogni, proprie aspettative, proprie aspirazioni attraverso una manifestazione d'arte che può essere dalla pittura o anche semplicemente accompagnate dalla lettura di un bel libro. Pensate di istituzionalizzare questo evento? Beh, diciamo che stiamo riflettendo molto su questa cosa, ovviamente non dipende da noi, solo da noi. Noi possiamo semplicemente proporla, ma se le istituzioni dovessero accompagnarci in questo nostro progetto saremo ben lieti di poter fare la nostra parte. E la delegazione AIRC di Gela nell'ambito del programma di educazione alla salute e prevenzione attraverso l'informazione ha organizzato due incontri per sabato 20 febbraio prossimo. Il primo incontro, previsto per le ore 8.45, si svolgerà all'Istituto Tecnico Industriale Morselli diretto da Ina Ciotte e rivolto agli studenti. Il secondo incontro, previsto per le 10.45, si svolgerà presso la casa circondariale di Gela ed è rivolto ai detenuti. Relazionerà Placido Dagati, volontario AIRC, medico di informazione specialistica in igiene e medicina preventiva presso l'Università di Catania. Ne dà notizia la delegata AIRC di Gela, grazie a Condello Città. Adesso occupiamoci dell'obiettivo del Comitato Gelensis Populus al fine di istituire un polo museale tra Gela e Piazza Armerina. Sentiamo. Un polo museale tra Gela e Piazza Armerina è l'obiettivo del Comitato Gelensis Populus. Una richiesta formale è stata inviata dalla regione siciliana in merito alla riorganizzazione delle strutture periferiche. Il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dei Beni Culturali in Sicilia prevede l'accorpamento delle strutture museali secondo, sottolinea Gelensis Populus, una sbrigativa operazione di perimetrazione territoriale semplicisticamente ricalcando i confini delle vecchie province. Questa operazione sarà probabilmente vanificata tra qualche mese a seguito dell'entrata in vigore della legge di modifica che ha già soppresso le vecchie province, sostituendole con i liberi consorzi alle città metropolitane. La nostra proposta è quella che, piuttosto che ridisegnare i confini dei poli archeologici solo sulla base di quelli che sono i confini delle ex province, di tener conto appunto dell'identità storico-culturale. La proposta sarebbe quella di creare un polo che abbia una propria autonomia e che veda camminare, gela con i suoi beni culturali, con Piazza Armerina, la Villa del Casale, tutto quello che chiaramente è nel comprensorio di Piazza Armerina. E che dovrebbe dare una risposta immediata e positiva alla vostra richiesta? Questo programma di ridisegno dei poli archeologici dovrebbe trovare a breve il suo completamento con l'approvazione in giunta. Per cui noi abbiamo sollecitato l'assessore Arramo, abbiamo inviato anche al Dipartimento regionale, abbiamo anche sensibilizzato la Presidenza della Regione Sicilia perché riteniamo che adagiarsi sui vecchi confini delle province sia assolutamente anacronistico e non premi assolutamente quella che è l'identità culturale storica di Gela che storicamente con la creazione di un polo che vedrebbe premiato il territorio che si sviluppa attorno al fiume di Gela potrebbe vederci a fianco a Piazza Armerina. E dunque sarebbero dei vantaggi notevoli per la città? Chiaramente si potrebbe anche creare una sorta di circuito che vedrebbe con ad esempio il pagamento di un unico biglietto la possibilità di accedere ai siti sia di Piazza Armerina che di Gela. In un momento storico come quello che sta attraversando Gela con chiaramente la crisi che attanaglia l'intero territorio sotto vari aspetti un'attenzione e una sensibilità maggiore anche sotto questo punto di vista certamente ce l'aspettiamo, la pretendiamo e Gela lo merita. Conferenza sui reperti del mare si è svolta oggi nei locali del liceo scientifico Elio Vittorini. C'è Roma anche noi, vediamo. I reperti del mare, se ne è parlato questa mattina nel corso di una conferenza che si svolta nei locali della liceo scientifico Elio Vittorini di Gela diretto da Angela Tuccio. I reperti archeologici sono stati concessi in prestito alla scuola per offrire la possibilità agli studenti di ammirarli e scoprirli. Devono essere consapevoli di ciò che gli appartiene, di ciò che non gli appartiene, così come dei doveri. E se noi non li educhiamo a questo abbiamo fallito. Per cui se notiamo che ci sono delle manchevolezze all'interno del nostro territorio, se ci sono delle operazioni che noi come istituzione scolastica e come soprattutto ente formativo possiamo fare, non dobbiamo tirarci indietro, dobbiamo affrontarle con tutte le difficoltà che possono esserci per far sì che i nostri studenti diventino cittadini consapevoli del proprio territorio. La mostra è solo il mezzo attraverso il quale lo studente si riappropria del proprio patrimonio e della propria storia. Gela ha un passato glorioso. Dicevo poco fa durante il mio intervento perché non deve avere un futuro glorioso, ma se i ragazzi non sanno di questo passato è chiaramente non ci potrà mai essere un futuro glorioso. Tra i presenti oggi all'iniziativa anche Francesco Cassarino che in più in occasione attraverso la collaborazione di numerosi volontari ha rinvenuto reperti dai fondali di Contrada Bulala consegnandoli agli organi competenti. La scuola ha partecipato anche in una fase di recupero, l'ho coinvolta io in questa fase di recupero, l'ho coinvolta anche la Guardia Costiera perché ogni volta che le autorità partecipano ai recuperi attraverso io alla sovrintendenza del mare comunico che possa partecipare qualche autorità. Gela è importante, è giusto che la politica sia attenzionata in questo contesto. Credo che la cosa che a noi manca è il Museo del Mare perché il museo è quello che valorizza non solo i reperti, ma fa crescere anche sia l'ambito regionale e l'ambito locale. Questo è quello che un presidente come Crocetta deve capire. Nell'ottica di una semplificazione procedurale, AGEA già dall'anno scorso è inserito nel regime di piccoli agricoltori tutti quei produttori agricoli che percepiscono un contributo inferiore a 1.250 euro. Questi produttori hanno l'obbligo di presentare la loro richiesta di contributo al proprio centro di assistenza agricola entrano non oltre il 29 febbraio prossimo. È venuta a trovarci Anna Salsetta, Reduce, da grandi successi. La tua carriera è davvero un crescendo, costellata di successi davvero molto interessanti che portano alto il nome anche della nostra città. Raccontaci di questa esperienza vissuta tra Sanremo e Monte Carlo. Guarda, un'esperienza davvero importante e gratificante che mi lascia davvero tanta soddisfazione. È un'esperienza che credo porterò con me per tutta la mia vita. Ho avuto modo di confrontarmi con tantissimi artisti a livello internazionale. C'erano cantanti che arrivavano dalla Colombia, dall'America, dalla Russia, dalla Bulgaria, dalla Romania. Quindi insomma anche, a parte adesso la vittoria, un confronto che mi ha fatto crescere. E adesso le prossime iniziative, Anna, collaborazioni, raccontaci un po'. Noi siamo sempre molto curiosi e seguiamo le tue vicende artistiche con molto interesse, ma soprattutto con grande affetto e amore. Allora, la prossima tappa è il 4 aprile. Sono in partenza per Bucharest, dove sarò ospite di un programma televisivo e Canoro. E poi per il resto ho già firmato a Monte Carlo un contratto discografico. Insomma sto già lavorando perché è nata una collaborazione con un artista a livello internazionale, però di questo ne parlerò prossimamente. Neanche contratto firmato, possiamo sapere il nome? Per adesso no, però fra qualche mese ovviamente vi metterò al corrente di tutto. E intanto un saluto in musica, Anna, per noi? Vi faccio ascoltare un pezzettino del pezzo che ho portato con me a Sanremo. Grazie, grazie a tutti i gelesi che mi hanno seguito e che mi hanno supportato perché sono stati tanti, Fabiola, grazie. In bocca al lupo. Viva il lupo sempre. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Ben tornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, prevista per venerdì 19 febbraio prossimo alle 18, nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gera, la presentazione del libro di Gaetano Tabì, Francesco, Il coraggio della scelta. Interverranno tra gli altri i dirigenti scolastici Maurizio Tedesco e Agata Guelli, il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, e l'autore del libro. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla piccola casa della misericordia. Educare, formare gli operatori sanitari per migliorare la qualità delle cure, ridurre errori medici ed elevare gli standard di sicurezza. Una mission portata avanti dalla direzione del Centro Mediterraneo di simulazione attiva presentata alla stampa. Si tratta di una delle strutture più avanzate d'Italia per il suo numero di attrezzature all'avanguardia. Cinque manichini adulti, una partoriente, un manichino infermieristico e cinque pediatrici. Quattro neonati sono gli strumenti utilizzati per educare e formare il personale sanitario, che consentono di sperimentare operazioni chirurgiche e manovre di primo soccorso che possono salvare una vita. Il centro si rivolge ai professionisti della sanità, quindi prima di tutto i medici e gli infermieri e poi anche gli altri professionisti, ma questi in maniera centrale, cioè quelli che hanno il contatto e il rapporto con il malato. Il centro ha dimensioni, competenze, strutture, dotazioni, strumenti, attrezzature, tali da poter offrire servizi anche ad altre regioni, sia delle regioni italiane che altre regioni appunto del Mediterraneo. Per questo abbiamo voluto, per questo la regione siciliana ha voluto mettere questo aggettivo Mediterraneo. Io penso che cambi molto perché è uno strumento proprio per la crescita, per lo sviluppo professionale del capitale umano del servizio sanitario e il capitale umano notoriamente è la cosa più importante. La formazione acquista un rilievo importantissimo e lo acquista a Caltanissetta e in Sicilia. Noi siamo consapevoli di dover operare da ore in poi, come stiamo già cominciando a fare, con società scientifiche di carattere nazionale e internazionale, con una rete di operatori e di professionisti a cui vogliamo rivolgerci e che devono vivere. Io credo che noi ci riusciremo il CEME di siccome un loro centro, il centro della eccellenza in cambio della simulazione medica. Circa 400 mila euro ai fondi europei impegnati per la realizzazione del progetto, il cui obiettivo, come ricordato nella conferenza stampa di presentazione, è quello di creare una rete di collaborazione più ampia che possa coinvolgere l'intera regione e non solo. E' tutto questo grazie al ruolo centrale della formazione permanente. C'è un principio che vige nella medicina e nella sanità che mai la prima volta sul paziente. E quindi questo è il motivo per cui questo centro, che è il più grande in Italia, articolato con differenziate proposte e disponibilità, proprio con programmi di diversa problematicità, proprio perché coloro che sono gli interlocutori e che parteciperanno ai nostri percorsi di formazione possono avere un quadro diversificato delle varie tipologie di criticità da affrontare nello svolgimento del proprio lavoro. Un seminario per parlare dei nativi digitali, ad organizzarlo, è la libreria Mondadori di Gela in via Marconi al numero 25. L'iniziativa si terrà oggi alle 18, relazionerà Vincenzo Cascino, docente all'Università Core di Enna e dottore di ricerca e scienze pedagogiche all'Università Marconi di Roma. Anche quest'anno l'AIRC promuove l'uovo della ricerca per raccogliere fondi a favore della ricerca oncologica. L'iniziativa, ripetuta da più di 20 anni, viene anche promossa e sostenuta dal direttore generale alla pubblica istruzione. Si possono prenotare le uova presso le scuole che hanno aderito alla campagna oppure ai volontari della delegazione locale. Tipologia delle uova disponibili, uovo da 100 grammi per un contributo di 3 euro, uovo da 500 grammi, latte o fondente per una quota associativa di 15 euro e per la quale sarà emessa a relativa ricevuta. Sono disponibili anche uova giganti di 2, 2,5 kg e 3,5 kg da sorteggiare. Sono aperte le iscrizioni al primo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana 2016, organizzato dal Comitato di Gela, aperto a tutti coloro che hanno il desiderio di spendere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri. Età minima 14 anni. Il corso si compone di 7 moduli a carattere teorico-pratico per una durata complessiva di 18 ore, durante le quali verranno fornite le nozioni base sul primo soccorso, BLS, sulla diffusione del diritto internazionale umanitario nel quale era chiusa la storia della Croce Rossa e sulla protezione civile. Le iscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte del 25 febbraio prossimo per informazioni 328 2477 645. Continuano gli appuntamenti in occasione della 82esima stagione concertistica gelese, domenica 21 febbraio prossimo alle 19. Al Palazzo Pignatelli, concerto lirico del trio Angela Curiale e soprano, Fabrizio Capizzi al violino e Giovanni Raddino al pianoforte. L'iniziativa porta la firma dell'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte. Lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Domani spettacolo con Ernesto Maria Ponte. E' Franni con Richard Gere, il film in programmazione al cineteatro Antidoto di Macchitella. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola, 17.30, 19.30 e 21.30. I prossimi 24 e 25 febbraio, sempre all'Antidoto, sarà portato in scena a servizio in camera di Emanuele Giammusso. L'orario di inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30. Per informazioni ci sono dei numeri di telefono 0933 82 27 07 oppure 338 7143 293. Sabato 27 alle 21.15, domenica 28 febbraio alle 17.15. Invece al Teatro Comunale Eschilo, Flavio Brazzaventre, Guia Ielo e Agostino Zumbo porteranno in scena la bisbetica domata. Per informazioni 093 391 18 92 oppure 345 58 80 580. Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Arrivederci a domani. Grazie per aver guardato il nostro canale.